Panchine letterarie e panchine intelligenti. Nell'ambito del progetto Smart City del Comune dell'Aquila sono sorte in punti focali della città delle sedute speciali. Le panchine letterarie realizzate a forma di libro riportano citazioni di autori celebri dedicate alla città dell'Aquila. Le panchine intelligenti sono dotate di prese USB per la ricarica di dispositivi e sono stazioni wifi ad accesso libero. I quattro sedili letterari sono posizionati all'ingresso del prato della Basilica di Collemaggio con la citazione di Carlo Emilio Gadda, all'interno del Parco del Sole con una dedica a Ignazio Silone, al Parco del Castello con citazione di Ernest Hemingway e nell'area di Porta Brancogna dedicato ad Alda Merini. Questo vuole essere un omaggio a quei grandi scrittori, poeti che hanno dedicato dei versi alla nostra città rendendola immortale nel tempo. Abbiamo scelto dei luoghi simbolo della nostra città da impreziosire con queste quattro panchine letterarie con quei versi che appunto dicevo prima. Un progetto che sembra molto apprezzato dai nostri cittadini e che nel tempo speriamo anche di poter implementare scegliendo altri luoghi simbolo della nostra città e altri grandi poeti che ne hanno parlato. Le panchine intelligenti sono tre, situate una nei pressi della Basilica di Collemaggio, l'altra a Porta Brancogna e l'ultima nello spazio antistante all'area giochi a pochi passi dalla Basilica di San Bernardino. Durante una visita a Zelona Cura, una delle città gemellate con l'Aquila come noto in Polonia e durante questa visita ho notato queste smart bench, queste panchine intelligenti. La Polonia è una città molto avanzata anche dal punto di vista tecnologico e dell'innovazione e mi son detto, cosa che evidentemente condivisa con il sindaco in particolare, perché non anche all'Aquila. La città della Smart City sta trovando concretezza in ogni suo passaggio e quindi inevitabilmente non poteva non esserci anche qui. In considerazione di quelle che sono le informazioni turistiche che può fornire piuttosto che la possibilità di connessione wifi, caricare telefono e tablet.